Buongiorno, buongiorno da Daniela Minerre, buongiorno al dottore Alessandro Miani che è professore di igiene e prevenzione ambientale alla Statale di Milano ed è presidente della Società Italiana di Medicina Ambientale. Perché oggi la medicina ambientale? Perché domani su Repubblica, su Salute, abbiamo un grande dossier sull'inquinamento indoor. Se ne è parlato tanto, se ne parla continuamente, allora noi ci siamo chiesti ma che cos'è questo inquinamento indoor? Come si accumulano i veleni nelle nostre case? Questi veleni davvero ci fanno male o è l'ennesimo grido d'allarme per farci così preoccupare inutilmente? In realtà quando parliamo di inquinamento indoor parliamo di una vastissima gamma di sostanze chimiche tossiche, più o meno tossiche, sono quelle che causano problemi molto comuni come le irritazioni cutanee, come il naso che cola, come gli occhi che si arrossano, ma che possono anche avere conseguenze più importanti perché quando noi parliamo di sostanze chimiche dentro l'alimentazione oppure che inaliamo le polveri sottili che entrano in casa, il radon che spaventa tutti anche perché non sappiamo assolutamente che noi persone della strada, ecco allora l'allarme è anche le case sono ammalate, la nostra casa è ammalata e ci fa ammalare. Ora io vorrei intanto, abbiamo molte domande dei nostri lettori che sicuramente affrontiamo fra un attimo, io però prima vorrei chiedere al dottor Miani, insomma è ammalata questa casa, cosa sono questi inquinanti indoor di cui dobbiamo avere paura, di quali dobbiamo avere paura e di quali meno? Sicuramente quando parliamo di inquinamento indoor ci riferiamo a, come diceva lei, a delle diverse tipologie di inquinamento, l'inquinamento di cui noi come società italiana di medicina ambientale ci siamo occupati di recente è l'inquinamento dell'aria indoor, poi possiamo vedere ci sono anche altre forme di inquinamento che possono derivare da tessuti, da oggetti, da tante, da arredi che abbiamo nelle nostre abitazioni. Ecco nell'aria, quali sono nell'aria quelli di cui sono? Nell'aria il punto è questo, è che noi passiamo, meno studi ci dicono, dati OMS, che nei paesi civilizzati si passa più del 90% del proprio tempo in ambiente indoor, ossia in ambiente domestico, ufficio, scuola, eccetera. E l'aria che troviamo nell'ambiente indoor altro non è che l'aria esterna, quindi già inquinata soprattutto nelle grandi città, più degli inquinanti specifici che sono specifici delle nostre case, per esempio alcuni di questi sono di origine chimico-fisica oppure di origine biologica. Esempi sono, cuciniamo, produciamo degli inquinanti, poi dopo possiamo vedere quali, usiamo un cammino o una stufa, produciamo degli inquinanti, puliamo la casa con dei prodotti per la pulizia, per l'igiene, possiamo produrre degli inquinanti secondari. e fumiamo, vabbè non ne parliamo insomma, diciamo il fumo da combustione di tabacco sappiamo che tipo di problemi e che danni ha, poi c'è il radon, come diceva lei, e ci sono anche degli altri inquinanti che sono tra virgolette più semplici, c'è la polvere, la polvere che si raccoglie nei tappeti per esempio, piuttosto che le muffe laddove c'è un eccesso di umidità o un eccesso di temperatura o poco ricambio d'aria, quindi ci sono una serie di situazioni che possono da un lato interagire con l'inquinamento esterno e quindi produrre degli inquinanti secondari, che possono essere anche tossiche o nocivi, e dall'altro lato c'è anche poi una maggiore concentrazione di CO2 perché in un ambiente chiuso dove non c'è ricambio d'aria frequente c'è anche l'attività umana che quindi produce CO2. Esistono ovviamente delle regole, delle possibilità per andare a migliorare la propria qualità di vita in un ambiente indoor, magari in alcuni casi migliorando anche la produzione, magari la produzione di chi lavora in un ufficio, che magari può essere più attento, più concentrato, più produttivo, piuttosto che di chi va a scuola, semplicemente facendo del buon ricambio d'aria. Ecco molte domande, vediamo il radon, il radon è una delle domande più frequenti, i nostri lettori ci chiedono, c'ho il locale sotto il piano di campagna, che cosa faccio per evitare il radon? Altri dicono, un lettore ci chiede, ho un tavolo di pietra lavica ceramizzata, non sarà mica fonte di gas radon? E poi insomma diverse domande, cosa è il radon? Dov'è il radon? Dobbiamo avere tutti paura del radon? Come sappiamo se in questo momento siamo circondati da radon? Allora, il radon è un gas, un gas naturale, che filtra dalle profondità del terreno dove è presente, fino alla superficie. Se nel suo filtrare incontra delle fondamenta più o meno ben fatte, può trovare dei punti di fessure per cui salire ed entrare fino a livello di abitazione. Di solito si ferma ad un'altezza, diciamo, interna da terra quando è emerso, che è piuttosto bassa, intorno ai 40-50 cm e quindi chi è più soggetto a questo tipo di inquinamento da radon sono bambini, sono persone allettate, sono anche gli stessi animali che comunque soffrono di patologie molto simili alle nostre. È ovvio che laddove ci sono delle fondamenta e dei rivestimenti, io non sono né un architetto né un ingegnere, ma dove ci sono fondamenti e rivestimenti ben fatti, il radon tendenzialmente evita di penetrare all'interno delle abitazioni. Laddove invece abbiamo case di campagna che magari non hanno vere e proprie fondamenta, piuttosto che ci sono case antiche, magari non so, del 500, del 600, del 700, in cui le fondamenta da un lato sono buone, sane e solide, ma però non sono stati utilizzati dei materiali innovativi che possono da un certo punto di vista impermeabilizzare quell'immobile, quell'edificio dalla risalita del radon, allora il radon si può trovare anche a piani più alti, non solo per forza a piano terra e a questa altezza. Come fare? Mi diceva dove? Il radon non è presente in tutta Italia, quindi non è che c'è rischio per tutti gli italiani, ci sono delle zone come per esempio il Lazio, come per esempio una parte del Piemonte e altre zone italiane che sono ricche di radon e quindi chi vive in queste regioni dovrebbe perlomeno fare una verifica, ci sono dei tecnici specializzati, ci sono delle apparecchiature che possono leggere la concentrazione di radon. E poi come proteggersi? Non potendo probabilmente rifare tutti le fondamenta o abbattere per ricostruire un immobile, il sistema migliore in assoluto è quello di creare una ventilazione continua, anche a basso costo, installando queste piccole ventoline che creano un ricircolo d'aria e quindi una fuoriuscita del radon in eccesso e un ingresso di aria dall'esterno. Abbiamo detto di costruire sano, no? Cioè questo è un tema importante, infatti abbiamo anche un lettore che ci chiede esistono delle vernici o degli intonaci speciali che trattengono gli inquinanti per interni, ecco quindi questa è la domanda, però anche più in generale, costruire sano è possibile? Costruire sano è possibile e bisogna farlo partendo dai progetti iniziali e quindi i progetti ingegneristici o architettonici che prevedano da un lato la migliore costruzione per il tipo di territorio nel quale si vuole andare a costruire e parliamo di sicurezza ambientale e quindi di prevenzione poi di problemi legati al nostro dissesto ideologico piuttosto che a zone a rischio terremoto, come oggi oggi si ne parla in continuo. Dall'altro lato è quello di pensare ad utilizzare dei materiali di costruzione che siano sani, che non contengono sostanze tossiche, che siano sani anche dal punto di vista di durata e quindi di garanzia di qualità del prodotto, fino a arrivare poi al prodotti diciamo di finitura come può essere per esempio, non so, un parquet piuttosto che una vernice, piuttosto che gli arredi stessi che siano fatti di materie e di materiali che non contengono inquinanti. Negli anni 70, anche negli anni 80, molti dei nostri arredi di casa erano fatti di trucciolato, il trucciolato per stare assieme ha bisogno di una sostanza che si chiama formaldeide, che è una sostanza altamente tossica, aerea, quindi volatile ed è classificata cancerogena e quindi per fortuna non siamo più a quell'epoca, ma in molte case di italiani ci sono ancora mobili arredi di questo tipo che continuano a liberare formaldeide. Gli arredi di oggi non la contengono e poi ci sono arredi che sono arredi, tavoli piuttosto che i parquet, eccetera, eccetera, anche le vernicette utilizzate per i parquet che sono sempre andate più verso un discorso di sostenibilità ambientale con ricadute positive sulla nostra salute e sulla nostra sicurezza. Infatti ci chiedono un parere sui parquet vinilici, che sono questi moderni che insomma molti li usano perché costano meno. In PVC, certo, costano di meno, l'unico rischio, se possiamo chiamarlo così, da un lato devono essere tutti certificati, possibilmente certificati CE, perché siano prodotti che siano passati attraverso quei controlli e test di qualità per cui non contengono sostanze tossico nocive. Poi il problema del PVC è capirne l'utilizzo, perché il camminamento su PVC alla lunga può sprigionare o comunque liberare delle, può creare delle micro fratture e può quindi liberare delle particelle plastiche, ok? Le stesse bottiglie, diciamo, da cui noi beviamo l'acqua, che sarebbero sconsigliabili di plastica, ma comunque per maggiore comodità e anche risparmio le prendiamo in plastica, sono fatte di PVC, comunque sono fatte di plastica che contengono PVC e il PVC a sua volta, che è un prodotto assolutamente innovativo e che ci ha consentito un forte sviluppo anche nostro, industriale, di vita, sociale, però è un prodotto che sempre di più sta alla base dell'inquinamento dei nostri mari, come anche dei nostri oceani e incomincia ad avere anche problemi sulle acque interne. E quindi il mio suggerimento è quello di preferire piuttosto l'antica piastrella, se uno vuole risparmiare piuttosto che andare sul PVC, però se proprio non ci fosse nessuna alternativa a questo, allora vada il PVC però cercando di non, diciamo, rovinarlo troppo, non usarlo in maniera così, posso permettermi di dire, violenta, tipo, non so, spostare mobili, lasciare bambini che giocano, rigarlo, perché questo ovviamente fa uscire delle, sprigiona delle particelle di plastica. E infatti quello che secondo, se si può dire forse, è che molti dei materiali con cui sono fatte le nostre abitazioni, con cui sono fatti i nostri arredi, sono materiali un po' vecchi, sono prodotti chimici che nel corso del tempo poi sono stati sottoposti a un vaglio, sono state stilate delle liste internazionali che ci dicono quali sono cancerogeni, quali sono tossici per certi aspetti, eccetera. Ovvio che alcuni messi al bando, alcuni comunque esposti al pubblico ludibrio, i costruttori sono andati togliendoli e quindi ovviamente una attenzione per vedere cosa c'è dentro le cose che compriamo se sono degli inquinanti che sono stati classificati come tossici dalle grandi agenzie internazionali. Una domanda per il dottore. Un lettore ci dice che lui abita in una casa e ha continuamente asma e rinite cronica, anche il suo vicino ce le ha, poi aggiunge che gli sono comparse psoriasi, spondilite, insomma malattie autoimmuni e ci dice che anche il suo vicino ce l'ha, insomma qui ci sono due signori che vivono nella stessa casa e hanno malattie simili. È chiaro che è un caso curioso, però solleva un interrogativo. Beh, bisognerebbe capire, forse nella domanda non c'è scritto, ma possiamo immaginarlo in che tipo di casa questi signori vivono. Perché per quanto riguarda l'asma e le allergie o quindi anche fino ad arrivare alla rinite cronica, possono sicuramente essere derivate da problemi di inquinamento indoor. Lo metto tra virgolette perché è sempre un inquinamento biologico, stiamo parlando di muffe, quindi laddove non c'è, ci sono vecchia muratura piuttosto che risalita d'acqua perché magari non ci sono fondamenta o quant'altro, beh è sicuramente più facile formarsi di muffe. Se poi noi non manteniamo un livello di umidità interna giusto, non abbiamo una ventilazione interna e anche un ricambio dell'aria giusto e queste muffe sprigionano delle spore e queste spore alla lunga vanno a interferire col nostro sistema immunitario e quindi a creare allergie che possono arrivare ad essere bronchiti, asma, asma cronico, piuttosto che molto più facilmente rinite cronica. Insomma, quando si parla di sistema immunitario bisogna sempre stare molto attenti. Le faccio una domanda al volo perché siamo in chiusura. Un lettore ci dice che c'è un nuovo ascensore senza locale macchina nel suo edificio. Lui è preoccupato per il campo magnetico che crea questo ascensore. È una preoccupazione giusta? Mi trova su quest'ultima domanda. Beh, diciamo che i campi magnetici è una forma, chiamiamola così, di inquinamento minore, è quella dovuta ai campi magnetici. Esistono però apparecchiature tecnologie, nonché protocolli approvati anche dal Ministero dell'Ambiente che servono per valutare se questa abitazione o questo ascensore è magari stato costruito su un nodo energetico e dove ci fosse la presenza di un nodo energetico si sa scientificamente che il nodo energetico può essere fattore, causa o con causa di problematiche di, possiamo dire, inquinamento ambientale nel senso di ricadute negative sulla salute. Sì. Quindi se il Signore ha questo tipo di dubbio esistono dei tecnici specializzati che rapidamente gli possono portare conforto e laddove dovesse risultare così può sempre mandare una lettera al proprio amministratore facendo presente, però adesso questa è una battuta, nei fatti costruire su nodi energetici piuttosto che posizionare il letto dove uno dorme su un nodo energetico come anche è successo nel caso di allevamenti di bestiame piuttosto che di terreni agricoli, si ha terreno agricolo una minore produzione di, negli allevamenti di bestiame la maggiore facilità di malattie di diverso tipo. Nel caso del letto si può avere fino ad arrivare ad avere una maggiore predisposizione o facilità ad ammalarsi di patologie anche molto gravi perché uno passa lì. Nel caso dell'ascensore non dà nessuno di tutto questo, né ci può essere un'incidenza sul funzionamento dell'ascensore, però può essere che il Signore anche a livello psicologico lo affronti in maniera difficile. Insomma i pericoli ci sono, però quello che è confortante vedere che insomma le cose vengono studiate e su questa dei nodi energetici ad esempio io non la sapevo, adesso ci informeremo e magari prima o poi su Salute troverete anche qualcosa su questi nodi energetici. Intanto domani trovate il nostro dossier sull'inquinamento indoor in cui noi raccontiamo anche del decalogo messo a punto dalla società dei medici dell'ambiente che ci dice poche cose molto facili da fare su come difendersi. Grazie e arrivederci.